mi chiamo carmina rai sono nata il giorno in cui il mondo è finito e sopravvissuti si sono fatti delle nuove vite sottoterra in superficie c'era soltanto genere e gel e morte pensavamo che l'inverno non sarebbe finito tuttavia la vita è ricominciata avevo sei anni la prima volta che ho visto il sole per mamma e papà fu una vista straziante il mondo che conoscevano era perduto sempre ma non per me non avevo mai visto nulla di così perfetto non eravamo gli unici sopravvissuti e col tempo poco a poco la comunità è cresciuta non è sempre stato facile ma per un po' ha regnato la pace questa era prosperity una nuova casa una nuova vita una normalità ma come accade con tutte le cose buone non poteva durare i guerrieri sono arrivati da est guidati da due sorelle gemelle qualcuno gli aveva parlato del nostro paradiso dicevano che se lo sarebbero preso non potevamo resistere hanno preso tutto ciò che poteva il cibo le nostre case la nostra gente ci serviva un miracolo e sentimmo parlare di thomas rush col suo braccio destro girava per la costa ovest aiutando la gente a ricostruire ed era su un treno che passava up county mia madre mi ha mandata a cercarli per convincerli ad aiutarci erano la nostra speranza la salvezza ma tutto è andato storto e 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 capo stai bene cristo vengono qui alzati capo alzati presto sono i guerrieri della strada ci uccideranno alzati capo alzati cazzo barnes se strilli così ci farai ammazzare tutti rush sei vivo aiutami no non c'è tempo dobbiamo andare barnes non abbandoneremo qui capo arriveranno presto dobbiamo restare uniti hai capito capo tocca a te dobbiamo armarci raggiungere i nostri e trovare un modo per andarcene più facile a dirsi che a farsi un passo alla volta bars va avanti ti seguiamo via le dita dai grilletti sentiamo che per me buon natale di sto cazzo a tutti gente babbo stradale ha portato un treno carico di regali ah che cosa abbiamo qui conigli ho una domanda per voi conigli che cazzo pensavate che succedesse spostarsi su un gigantesco bestione di ferro che sputa fumo nero chi non vi avrebbe visti cosa volete vogliamo sapere se voi siete dei problemi o se li risolvete cosa il nostro vecchio ci ha sempre detto che la gente può creare problemi o risolverli il mondo ha già troppi fottuti problemi noi cerchiamo gente che ci aiuti a risolvere i problemi i nostri perlomeno se risolvi problemi con noi sei a posto cibo vestiti armi ogni cosa che può servire pure l'assicurazione medica ma se i problemi li crei beh papà ci ha insegnato cosa fare in quel caso crea problemi deve essere risolto il vecchio ha risolto un sacco di problemi ai suoi tempi si quindi conigli siete problemi o quelli che li risolvono risolviamo problemi abbiamo risolto problemi in tutto il paese possiamo darvi acqua potabile costruire rifugi tutto quello che vi serve bastaci potete farlo questo cioè non io ma rush lui allora tu sarai il nostro risolvi problemi numero uno vai a farti fottere ok 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 hai finito ah allora riproviamoci risolverai i problemi per noi caro il mio raso hm ok ok ah 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 ehi svegliati sveglia ti ho visto sul treno sei a capo della sicurezza vero io sono caro quando sei finito in acqua ho fatto in tempo a tirarti fuori prima che affogassino purtroppo io e te siamo gli unici che se la sono cavata forza va bene facciamo attenzione le gemelle si sono portate via rush però i guerrieri sono ancora in giro ok noi dobbiamo tornare a Hope County mia madre lei saprà cosa fare andiamo ehi la dai dobbiamo seguire ancora un po' il fiume per arrivare a Hope County mi sembra tutto così assurdo mi sembra mi sembra mi sembra mi sembra mi sembra che avrei dovuto pensare quelle gemelle Nikki e Lou la prima volta che le ho viste fu quando arrivarono a casa nostra dissero che da quel momento era casa loro che ce ne potevamo andare da soli o che avrebbero dato fuoco a noi e alla casa mio padre cercò di resistere prima prima presero lui poi presero la casa io e mia madre siamo state costretti a ricominciare da capo cazzo i guerrieri della strada ci stanno bloccando il passaggio c'è una galleria che porta a Hope County più avanti ci servirà potenza di fuoco muoviamoci non eravamo le uniche vittime ma mia madre è riuscita a unire i sopravvissuti e a creare un posto sicuro per tutti quella vecchia miniera ci sono passata quando sono partita quella vecchia miniera ci sono passata quando sono partita c'è un banco da lavoro dentro puoi usarlo per farti un'arma rush doveva essere l'ultimo tassello che ci serviva per reagire ma ora siamo messi peggio di prima mi dispiace per i tuoi amici giuro che troverò un modo per riparare al torto ecco il banco da lavoro che ti dicevo rush ha detto che hai le mani d'oro costruiamoci qualcosa puoi usare i banchi come questo per costruire armi e munizioni guarda le armi che possiamo farci sì ci servono più risorse dovremo guardare in giro e arrangiarci a presto Grazie a tutti 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 Bambini Grazie a tutti Grazie a tutti Tu tu Ma non abbiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti